Il sindaco, il vice sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale di Sassano hanno deciso di contribuire attraverso l'utilizzo delle proprie indennità di carica alla realizzazione del Natale 2015 a Sassano. In particolare il contributo messo a disposizione dagli amministratori è pari a 5.500 euro. Tale scelta è scaturita dal fatto che non volendo rinunciare all'atmosfera natalizia e non volendo gravare sulle casse del comune per continuare a garantire una serie di servizi e non aumentare le tasse ai cittadini diventava indispensabile un contributo di tutti che giustamente abbiamo ritenuto opportuno partisse da noi, rappresentanti istituzionali, ha dichiarato il sindaco Tommaso Pellegrino. Oltre agli amministratori di Sassano per il contributo e per l'impegno, il sindaco rivolge un sentito ringraziamento a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma natalizio, alle associazioni, ai commercianti, agli imprenditori e agli artigiali del territorio, realizzando concretamente un modello di amministrazione partecipata e dimostrando attaccamento al proprio paese. Con la presenza di numerosi personaggi Disney in diverse piazze di Sassano, con le musiche natalizie in filo di fusione nel centro storico, con la slitta e le regne di Babbo Natale, con tante luci che hanno colorato e rallegrato diverse strade, Sassano si è preparata al meglio ad accogliere il Natale 2015. Siamo particolarmente convinti e soddisfatti della nostra scelta, che quest'anno è stata interamente dedicata ai bambini e quindi alle nostre famiglie, hanno concluso il sindaco Tommaso Pellegrino e gli amministratori comunali di Sassano.